Venturino Venturi è sicuramente uno dei grandi artisti toscani del Novecento. È uno dei grandi artisti che ci riporta alla memoria una Toscana rurale, in cui il talento di Venturino Venturi nasce da una famiglia povera che era stata costretta a emigrare e che nel Belgio aveva il padre che lavorava nelle miniere e che poi leggeva ai bambini, fra cui Venturino Venturi, due libri che si era portato dall'Italia. Da un lato Pinocchio e dall'altro la Divina Commedia di Dante. E quindi nella povertà e nella modestia di quella famiglia Venturino Venturi era cresciuto con il mito di questi due letterati italiani, l'uno letteratura più complessa, la Divina Commedia, ma l'altra il Carlo Lorenzini che aveva scritto Pinocchio che l'aveva talmente ispirato che la commissione che voleva valutare quale Pinocchio mettere nel parco di Collodi, aveva scelto essere quello di Venturino Venturi. Il tutto non avvenne perché prevalse in quel momento un gioco di rapporti fra arte e politica che portò a scegliere del progetto vittorioso di Venturino Venturi non il monumento ma solo il marmo policromo che ancora è forse diciamo lo spazio più emozionante per chi entra nel parco di Collodi. Per loro Ciuffena Venturino Venturi è sicuramente un simbolo. Quest'anno abbiamo due grandi centenari, 1918-2018, quindi la Grande Guerra, e la nascita del più grande artista lorese che ha fatto di quello che è stato il suo paese un laboratorio di pittura, di scultura e di arte a cielo aperto. Come sempre si dice, un grande artista come lui ha rappresentato un mondo possibile in un modo possibile che è stato appunto l'utilizzare l'arte della sua terra per poterci far vedere come è possibile un mondo di pace e un mondo di interpretazione.